Il patrimonio ormai della sensibilità, della cultura, starei per dire della civiltà di questa regione. Il perdono è esattamente il contrario del conflitto e noi abbiamo bisogno per ragioni territoriali, nazionali ed internazionali di andare oltre la logica dello scontro, del conflitto, dell'atteggiamento che non riconoscere la ragione e i diritti degli altri. Tutto questo per me la perdonanza ma anche l'insegnamento coincidente con la vita di Papa Celestino, del Papa che coltivando il rifiuto ha coltivato un altro modo del superimpegno, l'impegno che chiamava a raccolta per esempio la riflessione di ciascuno sul valore delle cose, sul valore delle condotte individuali, sul valore anche dell'assetto di una società e al tempo anche di un assetto delle istituzioni. Io per questo sono qui, naturalmente mi sento molto onorato di rappresentare l'ente regione Abruzzo e attraverso l'ente regione Abruzzo l'intera comunità regionale. Voglio stringere la mano a tutti gli organizzatori. Guardando alla questione che chiaramente è all'ordine del giorno da sempre, dal 2009 all'Aquila, ovvero questione di costruzione, quanto è importante che il governo, oggi rappresentato dal sottosegretario Legnini qui all'Aquila e Regione parli una stessa lingua? È molto importante poi che si evita la lentezza, l'incertezza, l'incomprensione e si assume in maniera definitiva la categoria della priorità. Questa città è in cammino per la ricostruzione delle mura, adesso c'è bisogno di ricostruire anche l'economia, la società, la dimensione, starei per dire, della civicità della città. Dietro di lei c'è Giovanni Lolli, che ai nostri microfoni, come mai lo abbiamo sentito particolarmente carico e convinto per il futuro di questa città? Lolli è una grande pagina di esperienza a favore di questa città, ci mette entusiasmo, è una persona conosciuta e riconosciuta, di sicuro non è stato mai un casuale, io sono contento di averlo come vicepresidente, lui mi facilita il grande lavoro nel cantiere della complessità dei problemi dell'Aquila. che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore. Grazie. 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 Grazie.